Ben ritrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Ospite con noi quest'oggi in studio è Davide Praloran, che è il riconfermato presidente di Umpli Proloco Bellunesi. Ben ritrovato Praloran. Grazie per avermi ospitato anche questa puntata. Rispondo subito alla tua provocazione. Sì, è stato confermato da poco dal Consiglio Provinciale che nell'Assemblea Provinciale abbiamo fatto il rinnovo del direttivo. Dopodiché la stima successiva ci siamo ritrovati. Quindi il Consiglio Provinciale mi ha dato mandato per i prossimi 4 anni quindi un quadriagno che sarà molto importante e impegnativo. In tutti i temi, in tutti i campi ne abbiamo diversi. La cosa principale sarà la ripartenza dell'attività delle Proloco adesso in ottunno ma anche per il prossimo anno. Certo, perché sappiamo appunto che questa è stata un'estate particolare per tutti, per tutti i cittadini, ma ovviamente anche le realtà del mondo del volontariato. Insomma, hanno dovuto vivere così un'estate insolita a causa della pandemia. Molti eventi sono venuti a mancare, ma adesso avremo modo di discutere. Allora, innanzitutto con il Presidente Pralolan io farei proprio una fotografia iniziale per condividere con i nostri telespettatori anche sulla attività che vengono svolte dall'UMPLI e in particolare anche quante sono le nostre Proloco bellunesi. Beh, innanzitutto due news, due Proloco nuove da poco, Proloco di Auronzo e la Proloco di Santa Giustina. Quindi in questo anno 2020, del tutto particolare, è un bel input, sicuramente da stimolo sia le Proloco che oggi ci sono, ma quelle nuove, di far crescere la nostra organizzazione in questa attività. Quindi sono veramente contento di questo primo news del 2020. Ecco, quante sono appunto le Proloco bellunesi? Oggi sono 58, ne abbiamo ancora due in fermento che speriamo possano narsi nel 2020. Sarebbe una parte del cadore quella più alta, la parte più bassa del cadore. Quindi vedremo lo sviluppo nell'autunno, se darà buoni frutti o meno. Anche perché sappiamo appunto il grande ruolo che viene svolto dalle Proloco bellunesi all'interno del territorio. Ricordiamo che l'azione dell'UMPLI si esplica proprio in campo turistico, culturale, folcloristico, linguistico, no gastronomico, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo, sociale. Insomma, davvero abbraccia tantissimi ambiti della nostra vita quotidiana. Ma ritorniamo, Presidente, a quell'argomento con cui avevamo iniziato proprio la nostra conversazione. Covid e manifestazioni. Qual è appunto la normativa vigente in questo momento? Come si può fare per gestire questi eventi? Ma guardi, innanzitutto abbiamo fatto un tavolo di regionale con tutte le province, con dei webinar o videoconferenze, per essere più chiari, per cercare di venire incontro all'attività estive e autunnali. Da questo è scattata un'ordinanza al numero 59, di cui il Presidente della Regione Vento ha emanato per le attività di sagre e fiere, ci sono delle piccole indicazioni da tener conto, da sviluppare attorno all'attività. È uscita, purtroppo, ahimè, verso la fine di giugno, questo vuoi perché incominciamo a vedere un po' di luce alla fine del tunnel, di conseguenza la Regione Vento ha voluto, con volontà e impegno, cercare di dare delle indicazioni per far sì che si possono fare delle piccole attività e quindi di dare un'accoglienza al turista che viene nella nostra Regione, perché parliamo delle sette province. Di conseguenza questo ritardo, causa tutto quello che è successo, ha fatto sì che tanti proloco già a Monte avevano già deciso di non organizzare niente per le tempistiche, perché tanti proloco non hanno strutture proprie, ma devono noleggiarle, e di conseguenza anche la programmazione diventava molto breve e quindi non era possibile poter fare delle cose in quel periodo là. È rimasto di sicuro qualcosa in agosto da fare? Sì, perché la Regione Veneto ha emesso un bando di sostegno economico per fare cinema e teatro, e in abbinamento le proloco, a propria descrizione, abbinavano enogastronomia o artisti da strada. Questo ha scaturito sicuramente in tutta la Regione del Veneto un grande fermento e le dirò che già col mese di luglio che abbiamo emanato questo bando è andato esaurito. Quindi praticamente le oltre 480 proloco del Veneto hanno usufruito di questo contributo che la Regione del Veneto ha dato sostegno e quindi tante proloco sono trovate praticamente sguarnite per non poter usufruire di questo bando. Però, nonostante questo, le proloco hanno proseguito il cammino e hanno comunque interagito nel territorio organizzando manifestazioni, torri petter ridotte, valorizzando il territorio, coinvolgendo ristoratori, coinvolgendo proprio anche la parte naturalistica piuttosto che le escursioni. Quindi c'è un qualcosa che il turista trova quando viene il belluno. Nonostante tutto possiamo dire che ragionevolmente parlando c'è ancora tanto timore, è vero, sì, però le proloco sono un'organizzazione seria e quindi si impegnano per dare sicurezza a chi viene a lavorare, i volontari, ma anche dare sicurezza al pubblico che viene a godere gli eventi che noi organizziamo. Diciamo che questa pandemia ha portato in luce anche la capacità di reinventarsi comunque delle associazioni stesse, animate ovviamente dallo spirito di intraprendenza, dal desiderio comunque di fare per il proprio territorio, che è proprio il nome che vi caratterizza. Sì, certo, guardi, tenga conto di questo, che noi nel mese di lockdown, ma questa parola è un po' magica, diciamo, la nostra organizzazione non è rimasta ferma. Abbiamo fatto tre mesi di videoconferenze e di formazione e informazione non solo per quanto riguarda il Covid, ma anche sul reinventare, come diceva lei prima, nuove attività. E questo ha fatto sì che le proloco si stanno riorganizzando per far nascere delle cose diverse. Per esempio, posso citarne qualcuna, nonostante questo timore, lo ripeto perché è un momento molto delicato per noi, tanti proloco si sono trovate un po' disorientate, nel far sì di ridiventare le iniziative che possono essere la parte che non veniva mai un po' trascurata nel valorizzare il territorio, quindi le passeggiate, piuttosto che far conoscere un castello, un museo, o anche fare la visita lungo i nostri percorsi che abbiamo nel territorio di tutto il Veneto, perché, per ripetere, parliamo di Veneto, ha fatto ridiventare e stimolare i volontari del proloco a dei percorsi diversi, quindi dell'attività che oggi non è solo sagra, ma bensì anche fa conoscere il territorio in modo più approfondito. Questo ha dato sicuramente una riflessione ampia di quello che può essere il Veneto, in particolare il bellunese, di sicuro perché siamo nel bellunese, di cosa abbiamo attorno che oggi non valorizziamo, che diamo per scontato che c'è, però non lo valorizziamo. Questo ha dato sicuramente un grande stimolo. Certo, Presidente, comunque va tenuta in considerazione anche la difficoltà economica che molte proloco hanno dovuto affrontare a causa delle mancate entrate. Su questo la nostra organizzazione si è mossa in largo anticipo. Abbiamo fatto un accordo con l'Istituto di Credito che le proloco potranno avere un finanziamento senza nessuna garanzia, da 5 mila Euro fino a 100 mila Euro. Perché questo servirà quest'anno, il prossimo anno, perché le proloco, quando facendo iniziative, le casse sono praticamente vuote per tutti. E quindi questo è un accordo che mi ha fatto molto importante, sarà un sostegno grande. Tenga conto che il budget mezzo all'esposizione di questo istituto è di 50 milioni di Euro. È una bella cifra. Le proloco possono accedere se iscritte all'APS, che è l'Associazione di Proposizione Sociale, lo sono quasi tutte, un gran parte. Però questa è un'opportunità. Quindi certe volte, tra il male, c'è qualcosa di bene. Quindi è un'opportunità. Quindi le proloco sono tranquille, sono state informate di questo e quindi possono programmare sia l'autunno 2020 e sia l'attività 2021. Ecco, citando proprio, facendo riferimento proprio all'autunno 2020, so che avete in programma, Presidente, un evento umpli provinciale che si terrà in settembre, proprio per fare così un po' chiarezza, per presentare anche le novità della prossima stagione. Sì, questo è una news a fronte di quello che purtroppo è accaduto, di fare squadra. Si parla tante volte, ma alla fine lo scopo, l'obiettivo non è stato raggiunto. Quest'anno vogliamo raggiungerlo insieme a tutte le proloco, ai consorzi di proloco, ma anche i consorzi agricoli, il mondo agricolo in particolare, ma anche gli enti attorno, può esserci il Parco Nazionale dell'Omiti, piuttosto che Lungaronne Fiere, piuttosto che altri enti, e di cominciare a ragionare su alcune attività e date che siano un po' esclusive nel territorio belunese. Il 12 e 13 settembre viene fatto presso il Parco del Berriere Piedavena, di cui ringraziamo che ci ospita, e il Comune di Piedavena, che ci darà una mano al suo aspetto organizzativo, per presentare attività autunnali. Noi siamo forti, nel senso che l'obiettivo può essere grande, però presenteremo il calendario standard di iniziative autunnali che le proloco organizzano nel territorio. Quindi un biglietto a visita importante, questo è un appuntamento che serve per far ripartire gli eventi autunnali di promozione, ma serve anche per far conoscere che con un'immagine unica riusciamo a trasmettere in quel periodo lì le attività che le proloco si propendono ad organizzare. Chiaramente in modo molto pacato, un po' ridotte appunto per l'anno in corso, però con la consapevolezza che questo può essere la ripartenza giusta per l'attività del territorio. Ecco, e guardando alle varie attività che comunque caratterizzano la vita proprio dell'Associazione dell'UMPLI, si è svolta di recente l'Assemblea Associativa, l'Assemblea delle Proloco Bellunesi. Certo, si è svolta su un luogo molto bello da valorizzare, che è la Vina d'Oro. Da poco tempo è stata acquisita da una cooperativa e noi abbiamo colto questa occasione, itinerante della nostra Assemblea, di fare la ponte nelle Alpi con la Proloco, che la ringrazio per averci dato il supporto per questo evento. Abbiamo fatto la nostra assemblea, il nostro seminario, che è importante, per dare delle informazioni e delle formazioni. E' uscito una bella giornata perché abbiamo fatto conoscere appunto l'aspetto legislativo attuale per fare attività, l'aspetto assicurativo, che non è da poco, e l'aspetto futuro della nostra organizzazione. La nostra organizzazione sta cambiando notevolmente perché deve crescere il suo aspetto di bacino di utenza per quanto riguarda la finalità dei consorsi, ma anche come organizzazione puntiamo ad un accordo nazionale, che lo stiamo cercando di sistemare un po' alla volta perché abbiamo ancora dei piccoli accorgimenti, per quanto riguarda la sicurezza e il monitoraggio alle manifestazioni, con un'agenzia grande a livello nazionale, per dare una certa rassicurazione, per ripetere le proloco, di poter essere all'aspetto legislativo di essere a posto, ma anche per dare tranquillità a tutti gli ospiti che vengono a seguire le nostre manifestazioni. Le dirò di più. Stiamo organizzando insieme insieme con la regione Veneto sull'aspetto anche ecosostenibile per l'ambiente perché sa che per i prossimi due anni arriviamo alla scadenza che verrà minata la plastica. In parte, quella giornata là avevamo l'assessore Bottacini presente che si è dato disponibilità per interlocuire per il futuro di poter trovare una logica di soluzione per l'attività delle fiere e manifestazioni, che anche lì sarà effettivamente rivedere tutto per il prossimo anno. Venendo invece a differenti nuove progettualità, sempre in un'ottica turistica, in un'ottica di promozione, proprio nel periodo autunnale, vedrà alla luce anche un nuovo progetto che riguarda una vetrina interattiva che sarà posizionata in quel di Busca e di Cesio Maggiore. Certo, questa è un'altra cosa molto bella che è un progetto del GAL che abbiamo partecipato un anno fa, l'abbiamo vinto come un proloco belunesi e diventa un po' un fiore all'occhiello per tutta la provincia perché è il primo pannello interattivo che avrà installato Busche grazie alla collaborazione di Latte Busche perché siamo ospitati nei loro locali e grazie anche al loro contributo. Lo stiamo sviluppando, io mi auguro, se tutto va per il verso giusto, che per l'autunno troverà l'apertura, quindi faremo anche un'organizzazione di questo pannello interattivo che raccoglierà tutti i proloco del bacino del GAL attuale, però cercheremo anche in futuro di inserire dentro anche tutte le informazioni della provincia del Belluno, del territorio, quindi piuttosto che le passeggiate, i vari percorsi, i rifugi, le malghe, perché noi abbiamo già nel nostro DNA di UMPLI nell'ultimo anno, abbiamo fatto diversi bandi di regia UMPLI Veneto, abbiamo già raccolto queste informazioni e vorremmo inserirli dentro in questo pannello interattivo. Quindi l'utente H24 potrà digitalizzare con le proprie manine, poter scoprire e vedere i territori dove vuole andare in quel giorno lì. In modo da avere l'informazione subito a portata di mano, quindi si capisce come l'attrattività del territorio stesso si eleva molto di più, perché c'è la possibilità di avere le informazioni a portata di mano, Ecco, Presidente, una curiosità, parlavamo ad inizio della nostra conversazione del numero delle proloco presenti, abbiamo sentito anche delle nuove associazioni che si sono costituite, sarei curiosa di chiederle un po' qual è l'età media anche dei vali volontari che fanno parte di questi gruppi. Ci sono giovani che entrano a far parte delle proloco? Guardi, questa è un'altra bella domanda, abbiamo appena rinnovato lo proloco di Chiesa, la Presidente ha 21 anni e il gruppo ha in media di 20-24 anni, quindi è una proloco ringiovanita totalmente e quindi ha dato spunto e dà anche la forza ad altri giovani ad inserirsi dentro nel proloco della provincia di Belluno. Con età media diciamo che non siamo messi per nulla male, abbiamo un'età media che va dai 30 ai 50, una media così. È vero che la parte alta, dove ci sono piccole realtà di proloco, lì diventa un po' più difficile, ma non perché non c'è la voglia di fare, perché la popolazione chiaramente è minore, quindi i giovani sono molto meno. Però vedo che c'è la volontà e la voglia di interessarsi del proloco, cosa che da pochi anni in questa parte era veramente un po' meno lo stimolo. Invece con quello che stiamo seminando come un proloco bellunesi nel territorio, perché io vorrei ricordare a tutti gli associati, ai presidenti, ai tutti i collaboratori, che sto girando la provincia di Belluno per andare a trovare le proloco, vedere le problematiche, ma anche per spronare l'attività di inserimento di giovani all'interno delle attività che vengono svolte durante l'anno. Quindi c'è un buon risultato secondo me. Anche perché ricordiamo sia l'aspetto che all'interno della proloco poi si vive un ambiente anche familiare, un ambiente di amicizia, di socializzazione, ma ricordiamo anche che l'attività del volontariato in generale è sempre più apprezzata anche in ambito lavorativo. Nei curricula per esempio, chi svolge attività di volontariato, insomma sono elementi apprezzati, quindi è una bella palestra per crescere, per i giovani. Ma non le confesso che tante persone alla fine hanno trovato un posto di lavoro perché sono state viste dai datori di lavoro o dal mondo industriale le persone attive all'interno della proloco, quindi vedono persone dinamiche, volontarose e anche responsabili e è quello che penso sia una vetrina importante anche per affacciarsi nel mondo lavorativo. Quindi sicuramente sì, gli uffici turistici di conseguenza anche perché abbiamo diverse persone formate che lavorano presso i nostri uffici turistici, quindi dipendenti di proloco, perché ne abbiamo diversi, in provincia Belluno, e quindi una crescita ulteriore anche su questo settore che sembra magari poco importante, però anche lì crea un certo fermento di poter accingere delle persone con esperienza del luogo. Bene Presidente, il nostro tempo si è concluso, io la ringrazio per essere stato con noi, auguro buon lavoro a lei e a tutto il suo staff, perché di lavoro abbiamo capito, ce n'è tanto veramente, però quando c'è l'entusiasmo, la voglia, l'intraprendenza, il desiderio di far del bene per il proprio territorio, insomma davvero si ottengono risultati importanti. Grazie a voi per aver invitato la possibilità di poter intervenire su Telebelluno e colgo l'occasione per salutare tutte le proloco bellunesi e di proseguire il cammino, che insieme sicuramente saremo una forza come sempre. Grazie Presidente, a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci! Grazie a tutti!